Il 10 novembre correrò insieme a Ricci la Maratona di Atene. Lo facciamo perché crediamo nel valore di un percorso verso un obiettivo ambizioso, inseguito con rigore, costanza e supporto di grandi professionisti. Lo facciamo ancora di più perché crediamo negli immensi benefici che lo sport dà, tanto fisici quanto mentali. Ed è proprio questo motivo per cui l'intera avventura supporta a pieno l'incredibile associazione Progetto Itaca. Una realtà da sempre a fianco, in difesa e in supporto di tutti coloro che purtroppo quotidianamente convivono con una forma di disturbo della salute mentale, disturbo che ahimè colpisce un italiano su quattro. I loro programmi di supporto, prevenzione, riabilitazione danno un aiuto veramente concreto, donando una vita libera da stigma e pregiudizio, ma ricca di supporto intimo e professionale. Durante la mia carriera ho documentato persone, sorrisi, città, dolori, forme e colori in ogni angolo del mondo, spesso da solo. Ad Atene invece sarò accompagnato da Veronica, Andrea e Pierpaolo, tre amici e colleghi che documenteranno questo nostro viaggio dalle mille sfumature. Un viaggio dal doppio traguardo, i 42 chilometri della corsa e i 5000 euro che puntiamo a raccogliere nel prossimo mese ed interamente devoluti all'associazione. Nel link in bio trovi queste e molte altre informazioni a riguardo. Nel link in bio trovi queste e molte altre informazioni a riguardo,